Nell'ambito del programma educativo della settimana del benessere si è inserita la visita al comando della Polizia Locale di Ventimiglia da parte di una classe dell'Istituto Comprensivo Bianchieri di Via Roma. 20 all'uni accompagnati dalle professoresse sono stati ospitati dalla Polizia Locale negli uffici del comando. I ragazzi hanno così partecipato attivamente ad una illustrazione dei vari compiti e delle specialità della Polizia Locale di Ventimiglia, anche con l'ausilio delle attrezzature che aiutano lo svolgimento delle attività istituzionali del corpo.